Le api non fanno parte del mondo, le api sorreggono il mondo. Nelle scorse ore ha convocato una riunione videoconferenza, con il presidente facente funzioni della conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi Luigi Manzi, sindaco di Scala e il direttore della sede regionale di Città Sud Simone Spinosa. Cascone ha comunicato la disponibilità della regione Campania con l'azienda Città Sud a mettere in campo tutte le energie e le strategie necessarie nei confronti dei ragazzi durante il loro viaggio scolastico quotidiano. Inoltre è stata convocata per domani e lunedì 19 settembre all'ora 17 presso l'Aula Consigliare del Comune di Scala una riunione straordinaria della conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi. All'incontro parteciperanno, oltre ai sindaci, il dirigente Spinosa con i rappresentanti dei dirigenti scolastici dei istituti Marini Gioia di Amalfi e Comite di Maiori. Sul tavolo della riunione saranno portate tutte le criticità relative al trasporto pubblico degli studenti per trovare soluzioni concrete e risolvere ai disagi riscontrati.